Gaetano Tabì con questo libro, Francesco, il coraggio della scelta, che libro è? Qual è il messaggio? Il messaggio è proprio questo. Effettivamente, l'esempio, dovremmo seguire l'esempio che Francesco, come Francesco, sta attanto a tutto il mondo. Ecco perché il coraggio della scelta. Il coraggio della scelta è questo, ha seguito dopo centinaia di anni l'esempio di Francesco che nessuno dei papi ha mai seguito e sta cercando di portarlo a pieno, seguendo effettivamente sia le orme di Francesco e a maggior ragione le orme di Gesù. È un libro che affascina, più che un'asilloge poetica è una prosa descrittiva che Gaetano Tabì fa per raccontare il pontefice. Dalla missione pastorale agli incontri con la gente è un papa che affascina Francesco. Gaetano Tabì lo racconta con semplicità, un'opera che custodisce dei sentimenti teneri, che l'autore vuole esprimere con ricchezza di particolari, con dovizia descrittiva, ma non tralascia quella semplicità che è comune, caratteristica con papa Francesco. Eccellenza, lei ormai è un amico di questa città, viene a trovarci anche in questa occasione in cui si inaugura una mostra e si presenta un libro. Con quali sentimenti? I sentimenti di un cittadino, cioè di una persona che chiaramente accuore ogni singolo cittadino perché possa trovare anzitutto la propria serenità interiore. Perché questo in fondo è il mio compito, che davvero la mia presenza rassicuri le persone, certamente nel loro cammino di fede, ma anche in quella condizione di umanità. E se la mia presenza possa essere utile perché la gente si senta amata, amata certo dal Signore, ma amata attraverso le persone, certamente io voglio far capire a tutti il mio affetto e la mia amicizia.